Se siete ascoltatori fedeli di Play, la trasmissione che state ascoltando qui su RBA, sapete che nelle ultime settimane dell'anno sono andato poco in onda per influenze, ferie, insomma tutte cose che si sono accumulate una sull'altra e quindi ci siamo lasciati dietro alcune notizie, alcune elementi che però vale la pena decisamente di recuperare anche perché sono notizie che non sono affatto invecchiate nel frattempo. Tra queste storie da raccontarvi che vale la pena di recuperare anche se con qualche settimana di ritardo c'è il lavoro a buon diritto che ha stilato nelle ultime settimane dell'anno un rapporto sullo stato di diritti nel corso dell'anno 2023, qualcosa di gigantesco come intenzione, Senz'altro perché di diritti si può parlare da tutti i punti di vista, molti di questi punti di vista sono raccontati appunto all'interno di questo rapporto e ve lo vogliamo raccontare. Con una intervista do il benvenuto alla coordinatrice del rapporto appunto per a buon diritto, Camilla Sigliotti. Ciao, benvenuta su Play. Buongiorno a tutti e a tutti, grazie. Allora, ce lo dicevamo fuori onda, i punti che tocca questo rapporto sono talmente tanti che se davvero lo raccontassimo tutto la prossima ora di trasmissione la occuperemo con questa intervista. Dovendo invece andare un po' a scegliere, partirei insomma dal punto di partenza vostro nello stilare questo rapporto. Quali sono i temi che avete scelto, su quali avete scelto di concentrarvi e come si misura anche il livello di progresso relativamente a questi temi? Perché voi mettete proprio insieme una serie di dati, non è semplicemente un racconto opinionato delle questioni, sono proprio dati, statistiche, numeri. Sì, innanzitutto grazie per l'invito e come veniva ricordato il rapporto sullo Stato dei diritti in Italia è un progetto curato da buon diritto ormai da quasi dieci anni. Quindi questo è il nono anno che facciamo questo lavoro, era iniziata diciamo con delle edizioni cartacee e poi dal 2020 è stato ristrutturato il sito internet nella versione diciamo attuale, che è una versione interattiva e che parte dal concetto diciamo che i diritti siano universali e siano intersezionali, tutti collegati tra loro, estremamente connessi. Quindi ne abbiamo scelti in particolare 17 dalla libertà di espressione e di informazione ai diritti delle persone migranti, richiedenti esilo, salute, salute mentale, lavoro, appunto come veniva ricordato, diritto all'abitare, ambiente, ma in realtà volendo potrebbero essere anche di più. Il rapporto è come dire un lavoro corale perché viene fatto da 17 tra ricercatori e ricercatrici che studiano e che lavorano nell'ambito di cui scrivono appunto il capitolo. È correlato da una serie di dati perché i dati effettivamente ogni anno ci permettono di capire quali avanzamenti sono stati fatti, anche effettivamente quali retrocessioni e il diciamo purtroppo per quest'anno, ma è una tendenza che abbiamo visto anche negli scorsi anni, a livello politico sono mancate molto spesso, quindi a livello legislativo, tutta una serie di accortezze che invece erano state segnalate, vengono segnalate da associazioni, in generale dalla società civile ormai da molto tempo in tutti gli ambiti. Il rapporto è curato grazie al sostegno dell'otto per mille valdese e viene presentato anche da un paio d'anni a livello politico, come strumento politico, quindi non solo come strumento scientifico di informazione e di ricerca che è il modo in cui è nato e il motivo per cui è nato, ma da un pochino di tempo stiliamo, oltre a raccogliere dati e appunto dare informazioni sullo stato dei diritti per ogni capitolo, rivolgiamo una serie di raccomandazioni al legislatore facendo emergere cosa manca e cosa ancora deve essere fatto. E questo appunto lo capiamo attraverso tutte le ricerche che vengono fatte ogni anno, sia sulla base di quello che era lo stato del diritto l'anno precedente, gli anni precedenti, sia sulla base delle statistiche, sia sulla base di dati di altre organizzazioni che magari si occupano di quel tema specifico che vengono appunto consultate. Mi viene diciamo in mente il dato molto preoccupante su la violenza di genere, in cui ovviamente il dato che emerge è quello dell'osservatorio nazionale di non una di meno sui femminicidi, lesbicidi e transicidi che ci sono stati quest'anno come l'anno precedente e quindi diciamo vuole mettere insieme una serie di livelli, proprio perché pensiamo che tutti i diritti siano tra loro collegati, quando scriviamo il capitolo sulle donne vediamo che non si parla solo di violenza di genere ma c'è anche un'importante questione a livello di lavoro e quindi subito c'è un collegamento con il capitolo lavoro che poi a sua volta fa emergere come ad esempio nello scorso anno l'interruzione di una serie di misure di sostegno come la misura di sostegno al reddito, il reddito di cittadinanza abbia influito su tutta una serie di altre fasce della popolazione e da qui ci ricolleghiamo al diritto all'abitare e quindi come dire la casa, la casa e la questione se la casa sia effettivamente un diritto garantito per tutte e tutti ad oggi nel nostro paese e anche qui i dati che emergono in realtà ci mostrano che siamo ancora molto indietro che siamo indietro da decenni anche su una legge, delle leggi in tal senso e questo possiamo farlo un pochino su tutti i diritti, sui 17 diritti. Un punto molto interessante che noto, a parte come dicevi tu appunto il rapporto interattivo in effetti forse è l'unico modo per rendere davvero inintellegibile perché se fosse un lunghissimo pdf in cui tutti questi elementi sono uno in seguito all'altro andrebbe benissimo chiaramente però potrebbe risultare confusionario perché si salta davvero un po' da un tema all'altro anche se le connessioni le troviamo però mi colpisce appunto questa scelta di quali sono i diritti da tenere in considerazione nel senso che chiaramente non stupisce nessuno, spero non stupisca nessuno nel 2023 il fatto di parlare di donne nel mondo del lavoro, dei dati sul femminicidio se ne è parlato moltissimo, io direi per fortuna anche se era nato tutto da una terribile tragedia però la reazione era stata di portare finalmente questo tema in primo piano dall'altro lato però anche ad esempio invece il tema dell'abitare e dell'accesso a appunto un'edilizia pubblica invece quello è un tema totalmente assente, qualcosa di cui non si parla mai un altro di questi temi appunto molto indietro nella narrazione mediatica e generalista e che mi colpisce su quale invece voi avete posto un accento è quello ad esempio sulla cittadinanza delle persone nate magari altrove oppure nate magari anche in Italia e non però cittadine italiane insomma tutto quel discorso sullo ius soli, quindi voi vi ponete anche questo diritto un diritto futuro diciamo, ci dovrebbe essere questo diritto, non ce l'abbiamo e quindi quante persone non hanno avuto accesso, insomma tutto questo per dire che anche la scelta di quali siano i punti da approfondire non è affatto scontato, non è qualcosa che emerge naturalmente Assolutamente diciamo che la vera intenzione del rapporto è quella anche di voler evitare una contrapposizione che molto spesso invece sentiamo che è quella tra i diritti sociali, i diritti civili e i diritti umani, come se ci fosse una scala diciamo di valori dei diritti, come se alcuni potessero essere per alcune persone messi in pausa per un pochino di tempo per pensare ad altri e quello che invece noi riteniamo è che in realtà aggiungere diritti o comunque allargare la platea dei diritti non solo non toglie niente a nessuna e a nessuna ma aggiunge a tutta la collettività e quindi il discorso vorrebbe essere anche appunto quello di accostare diritti magari apparentemente diversi tra loro che per qualcuno potrebbero avere diverse come dire scale di importanza a nostro avviso non è così e quindi quello che cerchiamo di mostrare è appunto come siano tutti collegati e connessi come senza uno non possa esserci il piano godimento dell'altro, il piano riconoscimento dell'altro e questo diciamo è uno dei discorsi che è stato anche alla base del rapporto sull'interattività del sito, sì ci piaceva diciamo l'idea che non fosse qualcosa di, che fosse fruibile che fosse anche un po' diverso e che graficamente fosse comprensibile ma anche bello da vedere e da scorrere e questo diciamo astronave che cade dal cielo, questo astronauta che cade dal cielo scende sul mondo concreto dei diritti quindi dallo spazio delle costellazioni che rappresentano un pochino le dichiarazioni universali, dei diritti umani e le leggi scende poi in realtà sul pianeta Terra e lì si trova effettivamente a confrontarsi proprio fisicamente, materialmente con tutta una serie di diritti o con le loro negazioni questo diciamo è l'idea, la concezione della home page del sito e all'interno oltre ai capitoli quindi ai testi, alle raccomandazioni, ai dati statistici ci sono una serie di linee del tempo che mostrano per ciascun diritto come è cambiato nel tempo quel diritto a livello normativo a livello legislativo quindi quali sono state le norme che sono state introdotte, le conquiste che sono state fatte e delle storie che sono sempre fisse dal 2020 quindi dall'anno in cui il sito si è rinnovato perché sono delle storie emblematiche ognuna appunto per un diritto di persone che nel corso del tempo hanno effettivamente, si sono battute per la difesa di quel diritto alcune sono storie conosciute altre meno e anche il fatto che fossero meno conosciute ma molto particolari, molto significative ci ha fatto decidere di inserirle e quindi questo diciamo è un altro aspetto che magari annualmente quando facciamo il report e l'aggiornamento emerge di meno ma era comunque molto importante per noi tenere insieme tutti i diversi aspetti quello appunto dei grafici, quello dei dati, quello delle storie e c'è una redazione diciamo di esperti, esperti, ricercatori, ricercatrici molto ampia che ci lavora e che noi vorremmo diciamo ringraziare ogni anno per il lavoro che fa insieme a noi. Sì è evidentemente un lavoro immenso, basta dare un'occhiata per capirlo voglio chiudere con una domanda in realtà un po' paura a porla perché ho paura che la risposta sia molto semplicemente di no nel senso che chiaramente in questo rapporto si sottolineano soprattutto le mancanze, le carenze, quanto siamo distanti dal raggiungimento dei vari obiettivi, c'è però qualcosa che invece vi ha magari colpito in senso invece positivo ci sono alcuni ambiti dove avete notato un qualche progresso incoraggiante oppure insomma c'è da lavorare su tutti i fronti? Diciamo che c'è da lavorare su, sono molti fronti e diciamo purtroppo le conquiste sono state, sono sempre molto più lente, questo probabilmente è anche normale che sia così però assistiamo in generale da molto tempo a una mancanza di un discorso strutturato su appunto i diritti e su come tenerli insieme, su come portarli avanti. C'è forse un'idea alla base per cui appunto si tratti di qualcosa di cui si occupano le associazioni, di cui si occupano certi settori, di cui ci si occupa marginalmente ma che non riguarda invece qualcosa che dovrebbe essere appunto di tutte e di tutti, si creano magari delle fazioni e quindi cambiano i governi, a volte anche cambiando i governi non cambiano in realtà le situazioni dei diritti, questa è un'altra cosa che abbiamo potuto notare in alcuni settori, ovviamente può peggiorare e peggiora di molto a seconda appunto di una serie di politiche che vengono o non vengono attuate, però quello che notiamo in generale è proprio un'assenza nel dibattito pubblico dei diritti tenuti come qualcosa di imprescindibile, c'è forse ancora molto lavoro da fare a livello culturale proprio per arrivare ad avere questa base comune su cui poi si può sperare di costruire forse appunto un discorso un pochino più complesso e anche un pochino più evoluto che ancora però facciamo molta fatica a sentire e infatti quando si parla di qualcosa che è legato ad alcuni diritti di cui anche il rapporto parla effettivamente vediamo come siano sempre altre le ottiche in cui se ne parla e quindi invece di parlare di diritti delle persone che arrivano e che magari vorrebbero semplicemente una vita diversa, un futuro migliore invece di parlare di libertà di movimento che è qualcosa che diciamo noi in questa parte del mondo abbiamo ma che non è comune a tutti e a tutti nel mondo, si parla invece di sicurezza, si parla di emergenza, si sposta diciamo il focus dai diritti delle persone e dalle persone ai numeri intesi appunto come numeri e non persone e a un'ottica magari emergenziale, un'ottica securitaria, si sposta insomma completamente il focus e quindi secondo noi si perde tanto anche di quello che in realtà c'è dietro e questo succede sull'ambiente, succede in ambito lavorativo, succede appunto sulla casa ma così anche come in ambito religioso, di libertà d'espressione, di salute, salute mentale o se ne parla poco o se ne parla diciamo proprio in termini diversi da quelli che dovrebbero rimettere al centro le persone e appunto i loro diritti. Sì questa creazione di fazioni anche laddove magari non ce ne sarebbero in partenza è evidentemente uno degli ostacoli più difficili, più duri da superare, come ci dicevamo in apertura è difficile dare più che un'infarinata rispetto a questo rapporto ma potete tutti dargli un'occhiata a voi che ci guardate, che ci ascoltate quest'oggi, il sito è molto semplice rapportodiritti.it lo trovate da quelle parti, al di là di questo rapporto potete seguire a buon diritto nel corso dell'anno nell'ambito di tutte le sue attività, non è questo l'unico lavoro che viene realizzato da loro anche se basterebbe, avanzerebbe visto quanto è gigante, però insomma è invece un lavoro più continuato e più differenziato. Siamo arrivati alla fine di questa intervista, ringrazio molto la mia ospite Camilla Sigliotti grazie davvero e alla prossima. Grazie a voi, grazie e buona giornata.